Assalto ad un furgone dei monopoli di Stato, carico di sigarette, ieri a Borgo in Coronata, ad una decina di chilometri da Foggia. Sei o sette banditi, incappucciati ed armati di pistola e fucili a pompa, a bordo di due furgoni di un Audi A6, hanno raggiunto l'autotrasportatore che stava consegnando sigarette ad una rivendita di tabacchi. L'uomo è stato circondato e minacciato. La guardia giurata di una ditta di vigilanza che scortava il furgone a bordo di una panda è stata disarmata. I malviventi hanno provveduto a trasbordare il carico di sigarette dal mezzo della vittima su due furgoncini. Poi sono fuggiti. In seguito all'allarme sono partite le indagini e i controlli della sezione antirapina della squadra mobile di Foggia. Ad un centinaio di metri dal luogo della rapina, lungo l'area industriale del capoluogo Dauno, è stata trovata l'auto utilizzata dalla banda durante la fuga completamente bruciata. Nessuna traccia invece dei due furgoncini e del carico di sigarette. Stando alle dichiarazioni dell'autotrasportatore e agli investigatori, i malviventi avevano un accento locale. Il valore del bottino si aggira intorno ai 120 mila euro. Secondo una prima ricostruzione, sembra che alcuni rapinatori, dopo aver abbandonato e bruciato l'Audi, siano fuggiti a bordo di un'altra auto di grossa cilindrata, probabilmente una BMW. L'ultima rapina ad un furgone che trasportava sigarette è stata messa a segno il 6 novembre scorso alla periferia di Cerignola. 400 mila euro il bottino, ma l'intera merce è stata recuperata dalla polizia in un garage in via Foggia alla periferia del centro Ofantino.